Io voglio la mia borsa adesso. Ma quale borsa? Lo sai quale borsa? Quella che hai rubato il mio amico Vito. Quel maledetto Napoletano! Eh, proprio lui! Lo sai che rubare è un crimine molto, molto, molto grave. E' forse la più grossa minchiata che tu abbia mai fatto. Scusa, ferma, Bernard! Tranquillizziate, comba, ferma! E dai, casimufrati, e ti comba, parlamo la stessa lingua. Ascolta, faccio io a chi te lo faccio. Non stai qua, ma faccio a chi stai. Io ti do una cosa a tia e ti do una cosa a mia. Facciamo così? Allora, io ti dallo il pacco. Però fammi un favore. Dammelo il passaporto di Giucristo che mi ha rotto le palle pure a mia. Sei sempre qua, con mancia, con l'urda, con faccia. Non mi faccio neanche guardo le parti di TV. Ma tu lo vedi? E allora, nonostante quell'apparenza da scimmione di merda che tu hai, qualche cosa sensata in quel mare di stronzate la dici ogni tanto?